Dalle manutenzioni al funzionamento dei reparti, se una struttura ospedaliera ha problemi ripetutamente nel tempo, vuol dire che chi la dirige non è in grado di farlo. E' una dichiarazione shock quella rilasciata dal neocommissario straordinario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia, che in un'intervista al quotidiano catanese alla Sicilia ha manifestato quella che potremmo benissimo definire la sua insoddisfazione per lo stato di cose in cui versa la sanità agrigentina. E se è insoddisfatto il commissario dell'ASP, figuriamoci l'opinione pubblica, ha fatto così sapere Zappia di avere già visitato gli ospedali, confermando l'impegno di essere presente settimanalmente in quelli che ha definito gli ospedali di periferia, recandosi già più volte nei distretti di Sciacca-Ribera, Canicattia e Licata. Dice così Zappia di aver accertato una situazione variegata, come un nobile evidentemente decaduto e che ha bisogno di essere riconsiderato per rimettersi in forze. Non ha poi nascosto Zappia il suo stupore negativo in ordine alla mancata manutenzione generale degli ospedali, salvo qualche presidio per il quale Zappia ha spiegato di avere trovato una condizione abbastanza buona sotto il profilo della manutenzione ordinaria. L'obiettivo dichiarato del commissario è quello dunque di migliorare, seguendo il concetto che deve essere il dirigente a proporre la soluzione al problema, ed è questo l'impegno che sul piano dell'impatto mediatico ha sicuramente una sua rilevanza, e Zappia minaccia che chiederà ai direttori dei reparti di dipartimento di rispondere delle lacune perché conclude se è una struttura a problemi ripetutamente nel tempo vuol dire che chi dirige non è in grado di farlo e quindi i problemi devo risolverli io e i direttori sanitari e amministrativi. Declarazioni sicuramente interessanti e meritevoli di nota, quelle del numero 1 dell'aspede egrigento, dichiarazioni che sembrano decisamente confermare alcune della rivendicazione del Comitato Civico per la Sanità di Sciacca, che da settimane presidia l'ingresso del Giovanni Paolo II, immocando attenzione, soprattutto interventi affinché l'ospedale riprenda un'attività concreta di risposta alle domande della cittadinanza. E più volte, come ha fatto nelle scorse ore a Zappia, i rappresentanti del Comitato hanno evidenziato come, dalla gestione della sanità sul territorio, debba rispondere chi ne detiene la direzione, perché la gente non importa di sapere che chi detiene il potere lavori per un tot numero di ore al giorno, quanto piuttosto quali siano i risultati conseguiti. E al momento i risultati non sono certamente meritevoli di valutazione positive. Insomma, Zappia ha preso degli impegni, vedremo se e in che misura ai predetti impegni arriveranno le risposte sperate dai cittadini.